Ciao, sono Charlie Cullinane e io sono sua mamma Elisa. Oggi parleremo del mio progetto, quello della Green Week Challenge, la catena dell'acqua. Questo progetto è basato su ridurre la plastica e soprattutto usare le case dell'acqua. Cosa sono le case dell'acqua, Charlie? Le case dell'acqua sono dei distributori automatici di acqua che erogano acqua naturale, acqua frizzante ovviamente potabile e a Milano se ne trovano in ogni zona almeno una o due e se non ce ne sono nel vostro paese potete bere l'acqua dal rubinetto. Perché dovremmo farlo? Perché l'Italia è il primo paese in Europa che usa più plastica e il secondo nel mondo. La plastica dell'acqua in bottiglia? Sì, ho capito. Il 75% dell'acqua che noi usiamo noi italiani è nelle bottiglie di plastica. Allora dobbiamo evitare di usarle, vero? Sì. Ok, allora grazie. Ciao. Ciao.